Ad Alchimia è un altro grandissimo artista, Enrico Beruschi, eccoci di qua. Io? Artista? Grande? Ma no, come lei l'artista, guarda che quadro, mi voleva mettere in cornice. Cosa sarebbe lui? Un soggetto per un quadro futurista, espressionista, dove lo collaccheresti? No, 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 a me ispira tanta tenerezza. Preparati per fare il modello, quindi, Alisa Dallanoce, va bene? Enrico davvero, eh? Vettito come? Nudo. Nudo, io faccio nudi i miei quadri. È uno scopo, Enrico Beruschi nudo, l'hai mai fatto? No, veramente, mi è successo una volta che mi è caduto l'accappatoio così e c'era giovane attrice che... Ho detto, ascolta, sei delle amiche che mi vogliono conoscere, eh? Digli di ripassare vent'anni fa, forse era meglio. Digli di ripassare vent'anni fa, forse era meglio.